Ben ritrovati all'appuntamento del venerdì con il Patchwork Emozionale. Oggi vi propongo un progetto che ho creato per l'azienda Legacy Italia in quanto faccio parte del team creativo. Materiale occorrente per realizzare il porta-aghi. Due rettangoli di tessuto da centimetri 26,5 x 16, uno per l'esterno e uno per l'interno. Due rettangoli di stabilizzatore Teltex termoadesivo da centimetri 10 x 14, due pezzi. Un rettangolo di pannolana da centimetri 22 x 14, due rettangoli di tessuto per creare le tasche laterali interne da centimetri 16 x 18, due rettangoli di pellicola termoadesiva da 8 x 18. Lo stabilizzatore Teltex e la pellicola termoadesiva sono materiali Legacy Italia. Procuratevi inoltre altri pezzetti ritagli di tessuto per creare un cuore imbottito che andremo ad aggiungere sul nostro porta-aghi e eventuali bottoncini da poter inserire. Aghi, ovviamente. Un pezzettino di pizzo o, se volete, un cordino che comunque andremo ad aggiungere all'esterno del nostro porta-aghi. Delle sagome da poter ritagliare, io ho scelto questi cuori per esempio, poi vediamo come andremo a eseguire, e dei chunks da appendere. Bene, direi che possiamo iniziare. La prima cosa da fare sarà quella di creare la parte esterna del vostro porta-aghi che potrete utilizzare un tessuto unico, ad esempio così, oppure crearvi il vostro patchwork. Io mi sono creata con dei pezzetti di batik la parte esterna che, ricordatevi, dovrà misurare 26,5 x 16. Dopodiché, io creandola in questo modo, ho provveduto ad appiattire le cuciture interne, così, senza stirarle, semplicemente appiattendole. E questo è pronto. Posizionate il Peltex con la parte adesiva sul rovescio del vostro porta-aghi. Tracciate la parte interna in modo da posizionarlo correttamente, per avere il margine di cucitura da tutti i lati, in modo che quando andate a cucire avrete lo spazio per inserire la cucitura senza prendere il Peltex. Mi raccomando, la parte adesiva, quindi questa che vedete più ruvida a contatto con il rovescio. Stiriamo. Come vedete, ho lasciato uno spazio in mezzo di circa due centimetri e mezzo, perché questo poi verrà piegato e vedrete all'interno poi cosa andremo a inserire. Allora, stirate bene, mi raccomando, tenete tutto lo spazio intorno, lasciate circa due centimetri e mezzo. Dopo aver stirato il Peltex aggiungete nel mezzo una striscia di ovatta morbida Econoflace della Legacy da circa tre centimetri, due centimetri e mezzo per 16. Stirate sui due rettangoli da 18 per 16 la pellicola termoadesiva sul rovescio del tessuto, quindi la parte rugosa sul rovescio del tessuto, esattamente a metà del vostro rettangolo. Dopo aver stirato la pellicola termoadesiva ho aggiunto lo sticentir della Legacy che è un supporto che mi stabilizza meglio il tessuto. Lo vado a fare sia su questa taschina sia sull'altra. Fate una ribattitura sulla parte della piega e posizionate i due rettangoli ottenuti all'interno della vostra fodera, quella che sarà la fodera. Aggiungete, quindi dritto contro dritto, il davanti del portaghi, usate le clips o gli spilli per puntare bene il tutto, andate a cucire tutto intorno e lasciate aperto uno spazio per rivoltare. Rigirate il tutto con pazienza perché il Peltex è un po' rigido quindi farete un pochino di fatica. Piano piano però rigirate il tutto e si presenterà così. Aggiungete, io ho lasciato il margine, cioè ho lasciato l'apertura in alto in modo da poter inserire il pezzettino di pizzo che io, sarebbe questo, proprio un pezzettino che io userò per appendere i charms. Questo ovviamente se lo desiderate, altrimenti potete farne a meno. Io prima di chiudere lo spazio che ho lasciato aperto, inserisco il pizzo e chiudo a mano, con due puntini a mano. Oppure se volete potete utilizzare la macchina da cucire, però, ripeto, viene meglio con due puntini a mano. Con la sagoma del cuore andate a cucire. Io per esempio in questo caso ho cucito il cuore, quindi non l'ho rigirato. In questo modo vi faccio vedere. Ho inserito le conoflace all'interno, così, e sono andata a cucire il cuore, l'ho disegnato, direttamente. Poi l'ho ritagliato con la lama zigrinata. Adesso ne vado a fare uno, ma lo cucio tutto intorno e andrò a rivoltarlo facendo un taglietto. Ho cucito tutto intorno, adesso faccio un taglietto nel centro e l'ho rivolto. Prima di rivoltare fate qualche tagliettino qui in mezzo, in modo che quando lo girate si accompagna meglio e non tira. Ed ecco un altro modo per fare il cuoricino. Andremo ad applicarne uno qua e uno all'interno. Ho cucito i cuori, ho inserito gli spilli, gli aghi. Prima di inserire questo nastro ho passato con la macchina da cucire per fermare il pannolana e il nastro che andrà a chiudere due o tre volte. E diventa anche un motivo carino da vedere. Dopodiché ho cucito a mano questo pezzetto di pizzo in modo da inserire il filo. Ecco come si presenta il lavoro terminato. Le taschine. Un eventuale spazio. Ancora spazio. Chiudo. Ed ecco il mio porta aghi terminato. Mettete un like se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella. E vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao.